Del Tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra, del Tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. Benedici il Signore, anima mia, Signore Dio, Tu sei grande, sono immense e splendenti tutte le Tue opere e tutte le creature. Del Tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. Se Tu togli il Tuo soffio, muore ogni cosa, e si risolve nella terra. Il Tuo Spirito scende, tutto si ricrea, e tutto si rinnova. Il Tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di Lui come una colomba. E venne una voce dal cielo. «Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento». E subito lo Spirito lo spinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva, «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano la rete in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni e suo fratello, mentre anch'essi, nella barca, riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni, e andarono dietro a lui. Giunsero a Cafarnao, e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, e gli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, non come gli scrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare dicendo, «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente, «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si dicevano a vicenda, «Che è mai questo, un insegnamento nuovo dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri, e che obbediscono». La sua fama si diffuse subito, dovunque, in tutta la regione della Galilea. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò, ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Gesù guarì molti, che erano affetti da varie malattie, e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino, presto, si alzò quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero, Tutti ti cercano. Ed egli disse loro, Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, e scacciando i demoni. Venne da lui un lebroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva, Se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse, Lo voglio. Sei purificato. E subito, la lebra scomparve da lui, ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via, e gli disse, Guarda di non dire niente a nessuno. Va, invece, e mostrati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Entrò a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa. e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono a lui, portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove si trovava, e fatta un'apertura, calarono la barella su cui era sdraiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, Figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scrivi e pensavano in cuor loro, perché costui parla così bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito di Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro, Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico ti sono perdonati i peccati? Oppure dire, Alzati, prendi la tua barrella e cammina. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra? Dico a te, disse al paralitico, Alzati, prendi la tua barrella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barrella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo, Non abbiamo mai visto nulla di simile. Uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, gli disse, Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora, gli iscrivi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli, Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro, Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero, Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro, Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore e nessuno versa vino nuovo in oltre i vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli oltri e si perdono vino e oltre. Ma vino nuovo in oltre i nuovi. Avvenne che di sabato Gesù passava tra i campi di grano e i suoi discepoli mentre camminavano si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano, Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro, non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame sotto il sommo sacerdote Abiatar. Entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati vieni qui in mezzo poi domanda loro è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male salvare una vita o ucciderla. Ma essi tacevano e guardandoli tutto intorno con indignazione rattristato per la durezza dei loro cuori disse all'uomo tendi la mano Egli la tese e la sua mano fu guarita e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea dalla Giudea e da Gerusalemme dall'Idumea da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone una grande folla sentendo quanto faceva andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti così che i quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano tu sei il figlio di Dio ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Abbiamo ascoltato la lettura di questo brano che sostanzialmente siamo al capitolo terzo versetto 6 siamo arrivati al capitolo terzo nella lettura dell'angelo di Marco e abbiamo letto una prima parte dove c'è la presentazione di Gesù proprio il prologo il prologo che è il vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio e abbiamo parlato della grande inclusione di questo vangelo cioè delle due sponde in cui cammina questo vangelo il vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio che concluderà con l'affermazione del centurione cioè della persona che non è del popolo di Israele di una persona che è sostanzialmente un laico che è un romano che è un ateo che vedendo morire Gesù dirà veramente questo uomo è figlio di Dio perché chi legge il vangelo di Marco quindi noi possiamo arrivare alla conoscenza di chi sia Dio dobbiamo fare tutto il percorso nel discepolo sappiamo fin dall'inizio che Gesù è il figlio di Dio ma questo figlio di Dio è sempre il figlio di Dio secondo il nostro punto di vista Marco in tutto il suo progetto vuole farci arrivare a comprendere come con i discepoli la differenza che c'è tra il Dio che abbiamo noi nella testa quello che conosciamo quello il solito il Dio dei filosofi il Dio che ci hanno insegnato il Dio in cui abbiamo creduto e forse nel quale crediamo ancora ecco Marco ha intenzione di levare di in un certo senso esorcizzare questa immagine di Dio che ci portiamo dentro per sostituirla con la verità di Gesù Cristo il Dio vivente che mostra il suo volto morendo sulla croce cioè il Dio di Marco il Dio del Vangelo non è un Dio non è il Dio vincente non è il Dio degli dèi non è il Signore del Cielo e della Terra o se volete è tutto questo ma sotto l'espressione della misericordia del dono della morte della consegna di sé all'umanità e tutto il percorso di Marco mirerà a esorcizzare questa idea per questo esorcizza per questo caccia i demoni il demonio che caccia dalla mente dal cuore di quelle persone che sono figure dei discepoli perché il vero demonio poi ce l'ha nei discepoli ce l'ha Pietro il vero demonio che ancora nelle vicinanze della passione ancora dice non ti accada mai questo lo vedremo nel capitolo ottavo non ti accada mai questo Signore e Gesù dirà vai dietro Satana pensi al modo umano Dio vuole vincere il peccato morendo donando la vita perché vuole insegnare a te l'unica strada che hai per vincere il tuo limite cioè quello di entrarci dentro e nella prima immagine abbiamo visto il battesimo entra nell'umanità si mette in fila con i peccatori peccatori tra i peccatori potremmo dire e va fino in fondo nell'umanità la sua immersione per poi riemergere per poi riemergere e andando in fondo lui che si è messo in fila come un peccatore ma che peccatore non è ha potuto trasformare quell'acqua ha potuto trasformare il fondo di ogni uomo ha potuto trasformare il limite di ogni uomo nell'occasione dell'accoglienza dello spirito in un'occasione per accogliere lo spirito il cristiano che entra nel suo limite non lo scaccia ma entra lo penetra lo accoglie lo abbraccia e lo vede paradossalmente come il dono di Dio perché gli fa prendere consapevolezza del suo limite che è un uomo che è una persona che è un essere limitato che non è Dio e soprattutto che non conosce Dio come lo conoscono i demoni come lo può conoscere nessuno ma è qualcuno che tocca Dio che incontra Dio che è in unità con Dio che lo ama non lo conosce lo ama la sua conoscenza è l'amore che ha di lui ecco quando si fa questo allora si incontra il vero Dio nel percorso di Marco avremo appunto stiamo abbiamo affrontato nella prima parte l'inizio del suo ministero di Galilea con abbiamo parlato di un'esplicitazione di un'intera giornata che Gesù inizia nella nella sinagoga che continua poi nella casa di Pietro che poi tutti gli ammalati tutte le guarigioni poi se ne va nel deserto fino alla mattina racconta tutta una giornata che è emblematica di tutto il percorso che Gesù farà di un Gesù che nel Vangelo di Marco abbiamo detto è sempre all'opera è sempre attivo è sempre in movimento è sempre in marcia è sempre in cammino proprio perché la vita dell'uomo è un cammino è questo cammino verso la scoperta piena della sua vera identità e la sua vera identità è nascosta nella identità di Dio nella morte di Dio nel dono di Dio nella misericordia di Dio è lì che trova la sua sorgente l'acqua sorgiva quella che veramente poi lo dissederà come il Vangelo di Giovanni dice alla Samaritana e il punto centrale lo vedremo i capitoli di Marco sono 16 proprio a capitolo 8 c'è la svolta tutta questa prima parte del Vangelo in cui che noi abbiamo visto in una prima fase nel primo inizio del mistero in Galilea con tutti i miracoli poi le prime dispute con i farisei con gli scrivi con gli erodiani che si associano il potere politico e sociale che si associano e già fin dalle prime battute hanno deciso di farlo fuori hanno deciso che quest'uomo non andava bene doveva essere eliminato adesso in questa seconda parte che andremo a cominciare con la abbiamo in realtà appena cominciato in quella piccola sintesi dove Gesù si ritira nei deserti e tutti vanno a lui adesso comincerà con l'istituzione dei dodici l'istituzione dell'apostolo che adesso questo brano andremo a vedere continuerà e entrerà nel pieno del suo ministero in Galilea che arriverà al culmine a Cesarea di Filippo nel luogo più lontano da Gerusalemme dove Gesù si manifesterà si trasfigurerà e questa trasfigurazione è precisamente il senso di tutto il Vangelo ci siamo detti che Marco non ha non racconta la resurrezione nel primo finale di Marco le donne vedono spaventate tornano a casa non annunciano a nessuno perché hanno paura ma perché per Marco la risurrezione è in realtà la trasfigurazione il percorso dell'umanità il percorso di chi ascolta questo Vangelo che entra nelle fibre della storia che riceve questa parola che vive questa parola è un percorso di trasfigurazione il senso dell'uomo è la sua trasfigurazione è la trasformazione e la trasposizione della propria vita alla luce di Dio e di diventare luminoso e il rivestirsi della veste luminosa della veste di gloria della veste bianca del candore con cui Dio ti ha generato è quello il senso di ogni uomo di ogni persona per questo è culmine e da lì vedremo nel Vangelo dopo che farà questa svolta dopo che dirà l'acme diciamo del percorso Gesù non farà più miracoli ma comincerà a dire come avviene questa trasfigurazione e comincerà a parlare della morte che dovrà subire e qui poi come citavamo prima Pietro che non è d'accordo su questa fase quindi in questo momento noi abbiamo letto l'introduzione siamo entrati con Gesù nella introduzione in questa introduzione di Marco molto semplice secca dove presenta i personaggi dove presenta Gesù dove presenta il Battista dove presenta la chiamata degli Apostoli e soprattutto già fin dall'inizio ci ha detto che vuole darci una buona notizia la bella notizia il Vangelo che è la persona di Gesù che è il figlio di Dio e che vuole trasformare tutti quanti noi in figli di Dio o vuole farci prendere consapevolezza che dobbiamo vivere da figli di Dio abbiamo fatto l'introduzione abbiamo fatto l'inizio del ministero in Galilea abbiamo iniziato il secondo la pienezza del ministero in Galilea abbiamo già affrontato alcune delle polemiche vedremo nelle prossime a cominciare dalla prossima volta dal capitolo terzo al versetto 6 dove abbiamo lasciato con l'inizio dei dodici l'inizio ufficiale della missione apostolica dei dodici e vedremo l'accoglienza che questo messaggio avrà e lo vedremo anche soprattutto tra i parenti presto vedremo come quelli vicini quelli che conoscono Gesù perché non solamente i demoni lo conoscono non lo amano ma lo conoscono i suoi invece lo amano ma non lo conoscono non riescono a vedere in lui la sua vera identità solo chi è ultimo chi è piccolo chi ha necessità lo vede lo riconosce lo ama e solo questo avrà un contatto quanti si avvicinano ma per premere Gesù e quanti invece si avvicinano per toccare per sfiorare perché qualcosa di lui passi in noi ecco ricominciamo il nostro percorso e veramente auguro a tutti che questa quello che Marco ha voluto fare con i suoi ascoltatori quindi che ha voluto fare con noi avvenga che veramente questa non sia tanto una lettura o una scoperta più o meno di cose che sapevo o non sapevo non è questione di conoscere un po' di più è questione di entrare in un rapporto con quest'uomo che trasforma le vite che trasforma la vita di chi ascolta di entrare in contatto con questa parola che seminata genera un albero ha la potenzialità di far diventare la persona quella che è destinata ad essere ciascuno di voi ciascuno di noi che ascolta ciascuno di noi che ascolta è una pianta che può dire molto 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 non limitiamo le possibilità crediamo più alla parola di Dio e al suo mangelo e alla sua buona notizia che ci viene annunciata e che ci ama anziché alla nostra incapacità alla nostra debolezza a quello che nella realtà siamo cioè un po' di terra impastata ma questa terra impastata con un po' di cielo è amata dal Signore del cielo è questa la sua forza è questa la sua potenzialità un buon cammino a tutti e ci vediamo martedì in un modo o nell'altro grazie grazie